La potenza è nulla senza controllo, recitava uno spot degli anni 90, ma oggi non parleremo di pneumatici ma bensì di scarpe, anzi di scarpa, questa Spin 2.0 che rappresenta il modello più performante dell'azienda di Treviso. Oltre ad essere il modello più performante probabilmente è anche il modello meno conosciuto, questo paio l'ho preso online nel 2022 per correre le gare più corte ma è tuttora il modello in vendita. Vi starete chiedendo se nel 2024 ha senso comprare una scarpa leggera e reattiva senza piastre in carbonio, certamente per la sua flessibilità, ma per capire meglio tutte le caratteristiche come al solito andiamo a correre. Nella taglia maschile US 9 la Spin 2.0 è una scarpa di soli 240 grammi, 10 grammi in meno della versione precedente, una scarpa da trail running tra le più leggere presenti sul mercato. L'altezza del suolo è solamente di 20 mm nel tallone e 16 mm nell'avampiede, il contatto con il terreno è perciò estremamente sensibile e preciso. La tomaia della scarpa è in mesh, leggero e traspirante, rivestito quasi interamente da questa gabbia in TPU che forma una sorta di esoscheletro, un sistema costruttivo tipico di scarpa con la funzione di sostenere e contenere il piede. Nonostante la presenza di tutto questo materiale plastico, la traspirabilità è garantita da numerose aperture frontali e laterali che permettono al piede di rimanere perfettamente asciutto, specie in gara dove la sudorazione è sicuramente più accentuata. La calzata della scarpa è estremamente comoda, una delle migliori mie provate soprattutto per essere una scarpa racing. La Spin 2.0 utilizza una costruzione interna a calzino in modo da avvolgere il piede per dare oltre che comfort anche precisione ad ogni appoggio del piede sul terreno. La linguetta della scarpa è molto morbida e spessa, è stata studiata per avvolgere completamente il collo del piede evitando punti di compressione e cercando di dare maggiore sensibilità e controllo del piede. Anche i lacci sono studiati in modo da essere tirati perfettamente senza creare fastidio. Sono tondi e morbidi, scorrono perfettamente all'interno delle asole e sono leggermente sgrinati in modo che non si possono slacciare. Possono sembrare all'apparenza particolarmente lunghi ma sulla linguetta troviamo questa piccola pochette per dirla alla francese dove poter infilare i lacci una volta annodati evitando così fastidiosi impigliamenti. Il contraforte tallonare consente infine al piede di rimanere perfettamente bloccato ma al tempo stesso la calzata così bassa lascia alla caviglia piena libertà di compiere ogni movimento. Per essere una scarpa da gara ho apprezzato davvero tanto il fatto che non si è scesi a compromessi per quanto riguarda la struttura della scarpa. Tutti gli elementi non sono solo funzionali ma sono stati progettati per conferire comfort, precisione e robustezza. Riusciremo a correre molto velocemente con questa spin 2.0 soprattutto grazie all'intersuola che utilizza una mescola in pebax a media densità. L'intersuola risulta essere sia estremamente reattiva che discretamente morbida conferendo comunque comfort ed ammortizzazione anche sui terreni più sconnessi. La spin 2.0 risulta essere anche molto stabile un aspetto che prendo sempre in considerazione essendo io un pronatore sia grazie alla mescola dell'intersuola che grazie alla sua ridotta altezza dal terreno. La scarpa è soprattutto molto flessibile la si può flettere e torcere completamente. Nell'intersuola si possono notare queste scanalature laterali create apposta per agevolare la flessibilità della scarpa. Come raccontavo all'inizio è una scarpa da gara senza alcuna piastra all'interno studiata apposta per conferire una gran sensibilità al corridore che voglia sentire il terreno sotto i suoi piedi in modo da essere sempre preciso in tutti i suoi passi. La reattività di questa spin 2.0 è data non solo dalla mescola dell'intersuola ma anche della costruzione a barchetta con un rocker anteriore abbastanza pronunciato chi agevola e rende fluida la falcata. Per aumentare il comfort della scarpa e distribuire meglio le sollecitazioni della nostra pianta del piede in questa spin 2.0 è stata inserita una soletta orto light dello spessore di 2 millimetri. Essendo chiaramente una scarpa da competizione si è cercato di rendere essenziale ma funzionale ogni aspetto. Ho apprezzato infine davvero tanto il battistrada che utilizza una mescola vibram mega grip ma con un disegno dei tasselli progettato da scarpa. La mescola è ideale per ogni tipo di terreno ed assicura inoltre grande resistenza all'usura. I tasselli sono alti 4 millimetri e non mi hanno mai tradito né sulla roccia né sul fango. Un aspetto molto positivo è che il battistrada copre tutta la larghezza della scarpa un particolare molto importante che ci assicura di non avere nessun danno all'intersuola a causa di terreni appuntiti e taglienti. È giusto farlo presente perché il peso ridotto della scarpa non ha compromesso affatto la sua affidabilità e funzionalità. Possiamo notare come siano presenti i tasselli di varie forme direzione e inclinazione. I tasselli posti sotto le dita sono stati studiati per dare maggior aderenza al terreno. I tasselli laterali sotto l'avampiede sono stati progettati per dare maggior trazione. I tasselli sotto il tallone sono quelli che ci aiutano a frenare in fase di discesa mentre i tasselli posti al centro della scarpa ci assicurano la corretta stabilità. Sono state create sotto l'avampiede queste piccole aree in cui manca il battistrada che servono a dare maggior flessibilità alla scarpa in modo che si adatti perfettamente a qualsiasi tipo di terreno dandoci sempre una sensazione di stabilità e precisione. Vi ricordo che sarebbe costruttivo da parte vostra se vi iscriveste al canale per non perdervi le mie prossime recensioni e quelle di tutto il team 2024. Come vi ho detto all'inizio della recensione questa scarpa l'ho acquistata nel 2022. Avevo acquistato in precedenza due paie di scarpa spin ultra una scarpa molto diversa dalla spin 2.0 ideale per lunghe distanze ed ero rimasto stupito dalla qualità di questo marchio per cui avevo poi deciso di acquistare le spin 2.0 come modello più performante da utilizzare per le gare più corte o per i vertical. Con queste spin 2.0 ho corso almeno 400 chilometri e le ho utilizzate oltre che in gara anche in qualche allenamento veloce alla ricerca del mio personal best sui percorsi e sulle salite che prediligo. Potete notare anche voi come la scarpa sia ancora in ottimo stato. La tomaia non presenta alcun segno di usura. L'intersuola grazie anche a queste scanalature che ne agevolano la compressione e la torsione non risulta particolarmente schiacciata. Il battistrada è chiaramente consumato ma in modo corretto ed omogeneo per tutti i chilometri che percorso. Ci sono però due tasti dolenti che è giusto toccare. In primo luogo il prezzo della scarpa. È una scarpa questa che di listino supera i 200 euro. Ho visto comunque che online ora coi saldi la si può trovare anche scontata dal 30-35%. C'è da considerare che rimane comunque una seconda scarpa. Non è certo la scarpa da usare tutti i giorni né tanto meno da utilizzare per le lunghe distanze a meno che non siate atleti eliti chiaramente. Il secondo aspetto per atleti sopra i 75 kg io ne peso 73 nelle discese più lunghe tende a far soffrire un po' il piede essendo una scarpa molto bassa. Rimane solo un mio parere personale ma avrei preferito magari un paio di millimetri in più nell'intersuola sacrificando eventualmente la linguetta, i lacci o il portalacci per mantenere lo stesso peso. Rimane chiaramente un parere personale perché scarpa si avvale della collaborazione di Marco De Gasperi che ne sa sicuramente molto più di me e di tutti voi in fatto di corso in montagna. La spin 2.0 la vedo adatta quindi ad atleti medio-leggeri per i trail e le skyrace più corte di massimo 20-25 km. È una scarpa estremamente precisa e stabile su ogni tipo di terreno. Non avrete mai il dubbio che il vostro appoggio possa non essere sicuro. Non la consiglio da utilizzare nelle skyrace con discese lunghe e rocciose mentre nei trail che si sviluppano per sentieri dove il terreno è più morbido è sicuramente la scarpa ideale. È soprattutto perfetta per le gare vertical dove il peso della scarpa ha un'importanza fondamentale così come la trazione. In conclusione se volete acquistare una seconda scarpa da utilizzare nelle gare più corte o semplicemente che possa regalarvi soddisfazioni, aiutarvi a spingere e portarvi a casa qualche personal vest la spin 2.0 è sicuramente la scarpa giusta ma prima di tutto chiaramente vi dovrete allenare. Non ho più nulla da dire su questa spin 2.0 se non che nel 2024 è previsto l'arrivo del nuovo modello la spin race che virtualmente è già nel mio carello della spesa.